Ok. Allora, buongiorno a tutti. Sono felice di essere qui con Ijabascego, che è una scrittrice che noi di Africa amiamo molto, l'abbiamo intervistata varie volte, varie volte lei ha fatto anche delle cose con noi e per noi, e oggi l'abbiamo invitata per chiederle dei consigli di lettura per quest'estate. Noi in genere pubblichiamo almeno due o tre volte l'anno dei pezzi sul sito di Africa in cui diamo dei consigli di lettura sulla base delle nostre preferenze e ci è sembrato questa volta carino, interessante chiedere consiglio a un'autrice che spesso abbiamo consigliato a nostra volta. Ijabba, cosa dobbiamo leggere quest'estate? Ah, tante cose, uno dovrebbe leggere a parti classici che sono sempre utili. Allora, io sento che vorrei consigliare un libro brasiliano, la letteratura brasiliana e in generale la letteratura lusofona, ahimè, è poco letta in Italia, l'unica cosa che era letta era Giorgio Amado tanto tempo fa, ma insomma è Ghimaraes Rosa. Invece voglio consigliarvi un libro di un piccolo editore di Roma, Tuga, che si intitola Torto Arado, il titolo in italiano è Aratro Ritorto, di Itamar Viera Junior. Questo libro, che in Italia è stato pubblicato da un piccolo editore molto gagliardo che fa tanta letteratura lusofona, ha sbancato il mondo lusofono in Brasile, lo hanno letto tutti, addirittura Lula si è fatto la fotografia con il libro ed è stato un grandissimo successo, ha vinto tantissimi premi. Parla, diciamo, di una realtà rurale, brasiliana, dello stato di Bahia, quindi del nord-est del paese, ed è la storia di due sorelle, una che rimane, una che va via dalla realtà rurale. È veramente un libro che parla di donne nere, ma in modo totalmente differente rispetto ai canoni, diciamo, americani o europei, perché c'è molto il discorso della classe, molto il discorso non soltanto dell'appartenenza a una blackness, ma proprio un'appartenenza anche a un mondo contadino, un mondo ancora schiavizzato. E' Tamar Viera Junior, un geografo, quindi è proprio un polso della situazione. Io consiglierei proprio questo libro a chi vorrebbe imparare delle cose nuove e vorrebbe leggere qualcosa che ci viene dal mondo lusofono. Quindi ci ripeti il titolo, per favore? Aratro Ritorto. Casa editrice? Tuga. Tuga. Autore? Itamar Viera Junior. Perfetto. Andiamo al consiglio numero due. Allora, il consiglio numero due è un libro che io ho consigliato tutto l'anno, ma continuo a consigliarlo perché magari qualcuno non l'ha ancora letto, è questo di Bernardine Evaristo, Girl, Woman, Other, Ragazza, Donna, Altro. Ed è un libro che io consiglio a un po' a tutti di leggere tutto quello che ha fatto Bernardine Evaristo, tra cui anche il poema e il poema in versi sulla migrazione della sua famiglia e l'intreccio della sua famiglia, perché appunto lei è figlia di un padre nero e nigeriano di una madre bianca inglese, quindi Lara parla di quello. E in questo Girl, Woman, Other, Ragazza, Donna, Altro, che è pubblicato in Italia da Sur, fa una carrellata appunto tra tanti modi di essere donna e tanti modi di essere anche donna nera in Gran Bretagna. Ed è un libro che veramente mescola gli eventi, mescola i vissuti, non c'è niente di scontato, non ci sono buoni e cattivi, c'è una vita che ti stupisce. E io, in un lavoro che ho fatto con la mia amica Esther Elisha, ho detto che questo libro parla di noi, ma pure di lei, di Bernardine Evaristo, delle nostre madri, delle nostre sorelle, delle nostre amiche e anche delle nostre nemiche. Esther ha detto, ma io non ho nemiche, ho detto, ma chissà. E quindi più o meno parla di tutte le donne che amiamo e anche che detestiamo. Quindi a me ha colpito proprio per questa varietà. E poi la lingua in cui è scritto, che è una fusion literature, no? Sembra proprio che le parole si infrangono sulla pagina come un'onda. Insomma, bello. Mi consiglio. Senti, tu l'hai letto in italiano e l'hai letto in originale? L'ho letto in inglese e l'ho letto anche in italiano. In italiano è stato tradotto ottimamente da Martina Testa perché oggettivamente adesso c'è tutta questa fatica, no? Delle povere traduttrici che devono anche subirsi delle polemiche perché hanno tradotto testi e linguaggi in una lingua che non ha le stesse parole dell'inglese, no? Quindi persone come Martina Testa sono veramente dei ponti. È stata bravissima perché era un libro difficilissimo da tradurre in qualsiasi lingua, penso al coreano, all'italiano, al portoghese. La devi riadattare in qualche modo, no? E effettivamente la traduzione è tradimento. Io l'ho letta all'inizio perché io leggo Bernardina Baristo quando non era famosa, nemmeno in Inghilterra. E quindi effettivamente sono una che l'ha seguita parecchio. Quindi quando è uscito questo, ancora prima del Man Booker Prize, ecco questa è una cosa importante da dire, ha vinto il Man Booker Prize ed è un libro straordinario. Non solo, prima appunto, io l'ho letto prima della Vittoria, è un libro straordinario perché veramente mette in scena la Gran Bretagna di oggi. Io poi sentimentalmente sono un po' legata alla Gran Bretagna perché ho mezza famiglia che vive là e quindi proprio sentivo le atmosfere, cioè le capivo. Allora, ripetiamo ancora per i nostri lettori. Bernardina Baristo. Ragazza, donna, altro, girl, woman, other. In Italia è stato pubblicato da Sur. Benissimo. Andiamo avanti, Jabba, ti vogliamo spremere bene. Allora, io posso consigliare un classico perché pare, è assurdo, consigliamo sempre le cose attuali. Però io quest'anno di pandemia ho letto un grande classico che mi mancava e sono una che ammette che a volte ha dei buchi, no? Perché io ho studiato molto letteratura inglese, spagnola e per esempio ho sempre avuto dei buchi sulla letteratura russa e dei buchi sulla letteratura francese. Io sto ogni tanto colmando le mie lacune e quindi durante la pandemia ho letto Guerra e Pace e vorrei proprio consigliarvi di leggere Guerra e Pace. Avete davanti due mesi estivi, almeno luglio e agosto, spiaggia. È una lettura veramente che vi porta in un altro mondo. Io non pensavo, no? Perché è stato un libro che, come Anna Karenina, avevo nel tempo interrotto, perché poi ho scoperto che ero incappata a proposito di traduzioni, cattive traduzioni. Io ho preso la versione di Enaudi e devo dire che è ben tradotta adesso, mentre quella di Anna Karenina è stata tradotta da Claudia Zonghetti, non ricordo adesso chi è la traduttrice di Guerra e Pace, però ha fatto un lavoro pazzesco. E devo dire che ho amato molto questo intreccio delle vite quotidiane, degli amori, della semplicità della vita, con l'immensità e la paurosa guerra che li piomba addosso, no? E effettivamente ti fa capire che le guerre sono il male assoluto e devo dire che quando leggevo proprio le parti dedicate alla guerra, perché poi questo libro, non l'ho detto, ambientato durante le guerre napoleoniche, durante l'invasione di Napoleone della Russia, e la cosa che è pazzesca è che ci sono dei personaggi indimenticabili. Io, per esempio, come in Anna Karenina mi sono innamorata di Levin, qui mi sono innamorata di Pierre, che andrebbe letto anche, secondo me, da questo punto di vista. Cioè, Pierre è un ragazzo goffo, un po' in carne, un po' fuori luogo, però che sta sempre al centro della storia, no? Ed è la persona più pura, più leale, cioè quello che vorresti avere come amico. E quindi ti fa andare lui, ti porta lui dentro le vicissitudini, anche degli altri personaggi, fa delle scelte sbagliate, a un certo punto entra in massoneria, poi ne esce, poi non sa bene qual è il suo ruolo, si sposa con una cattivissima, questa è Len che è antipaticissima, insomma, fa delle scelte sbagliate, però proprio per la sua intrinseca umanità te lo fa voler bene. Cioè, io durante la lettura pandemica mi ho voluto un sacco bene, devo dire che Tolstoi ha veramente questa grande capacità di entrare dentro i personaggi, dentro le situazioni, anche nelle descrizioni minute, perché poi sono libri di descrizioni minute, qualcosa a cui oggi la letteratura non è più abituata, non è che noi descriviamo delle cose minime, però questo esercizio di Tolstoi è qualcosa che ti rende il testo bellissimo e io lo consiglio perché soprattutto vorrei consigliarlo agli afrodiscendenti, perché molto spesso uno dei problemi che ho notato è che si legge molto black, io leggo molte cose black, però andrebbero lette tutte le cose effettivamente, e c'è bisogno di ampliare gli orizzonti. Io ho sempre fatto così da quando sono piccola, che leggo veramente tutto quello che mi capita davanti, e questo è quello che mi ha aiutato poi a capire il mondo in cui vivo, e ogni anno almeno leggersi qualche classico che può essere Cervantes, io mi sono laureata su Cervantes, quindi consiglio Cervantes, cioè leggere Cervantes o Balzac o i grandi classici anche della letteratura africana come Cinema Cebbe, è qualcosa che ci arricchisce dentro. Qualcosa anche che porta lontano, perché fa viaggiare e ci fa ricordare anche qual è il significato educativo, formativo della cultura umanistica, che non conosce le barriere, le frontiere. Infatti io ti stavo per chiedere... Ma posso dire una cosa sola su Guerra e Pace? Tony Morrison diceva di Guerra e Pace che è tosto e parla tutto il tempo della, tra virgolette, razza, race, lei diceva race, io traduco razza che è una brutta parola in italiano, perché insomma razza qui ha tutto un altro tipo di significato, ma per farle capire al pubblico che ci sta ascoltando. Ed è vero, cioè se uno legge Guerra e Pace capisce che non sta parlando di un tipo solo, di persona, ma di una moltitudine, cioè chi viene appunto... Perché le terre russe e le terre che orbitano intorno alla Russia sono tantissime, e quindi uno si rende conto di stare davanti a una galassia, no? E Tony Morrison lo capiva, no? Perché è una che amava la letteratura e soprattutto aveva un occhio per le differenze, e quindi anche da questo punto di vista torse e arricchisce tantissimo, perché ti dà proprio un modo di guardare il mondo e capire le differenze di appartenenza e di classe. Grazie a Ijarba. Andiamo avanti, ci abbiamo ancora... Io te ne avevo chiesti... Non mi ricordo quanto. Tre? E allora... E allora... E allora posso aggiungere però. Tre, aggiungi bene un altro, perché è così bello sentirti a parlare di questo. No, allora posso aggiungere uno che vorrei che la gente leggesse. Fratelli d'anima di Diop, di David Diop, che in questo ha vinto anche il Man Booker Prize International. Lui è franco senegalese e ha parlato dei soldati senegalesi che hanno fatto la prima guerra mondiale, no? Ed è una storia molto scupa, ma anche molto, non so come dire, colpisce, perché non viene raccontato, no? Ed è una cosa che a me ha ricordato molto quello che dice la Leonor Miano, che molto spesso noi afrodiscendenti che viviamo in Europa e che siamo nati in Europa e ci attacchiamo proprio alla memoria di chi magari è stato manipolato ed è arrivato qui a combattere per una guerra non sua. Ed è difficile, no? A volte lo diciamo con orgoglio. Ah, ci sono stati i senegalesi, ah, ci sono stati i cambogiani. E sono tutte persone, se ci pensiamo, che hanno sofferto tanto. Magari non la volevano nemmeno combattere, quella guerra. Ecco, Diop spiega bene perché non la volevano combattere e spiega bene in che guai sono finiti. Ed è un libro veramente bello di fratellanza, di paura. È un inno contro la guerra, lo straconsiglio. Poi in Brasile l'ha pubblicata la mia stessa editrice che quando ha vinto il Man Booker Prize ha fatto proprio una grandissima festa perché ha avuto un occhio e questa è la cosa bella dell'editoria, no? Ci sono dei libri che rimangono lì per due, tre anni e poi improvvisamente ci si accorge che quel libro è importante perché poi la letteratura ha vie proprio misteriose per uscire fuori. Ecco, ci sono tanti libri che andrebbero letti. Io ho la mia piletta, spero che qualcuno consigli me. Senti, ripetiamo un attimo il titolo del libro di Diop, la casa editrice italiana. Allora, Fratelli d'Anima, se non sbaglio, e Neri Pozza. Neri Pozza, Davide Diop. A questo punto io prima di lasciarti, mi permetto di dare io un consiglio di lettura. Io me lo sono preparato, ce l'ho anche qua, dice a me il consiglio di lettura. Ed è un libro che tu conosci molto bene, avendolo scritto, anzi avendolo co-scritto, sei la co-autrice. No, co-curatrice, in realtà non l'abbiamo scritto nulla. È vero perché, scusami, è vero, non l'avete scritto, avete selezionato dei testi. Africana, che è uscita con Feltrinelli da poco, da qualche settimana. Ecco, io l'ho letto, è un libro che mi sta, o meglio, sto continuando a leggere, mi piace molto e ti ringrazio per aver fatto questo lavoro insieme a Chiara Peaggio. Vorrei però che tu ai nostri lettori spiegassi un po' di che cosa si tratta, che libro è, che obiettivo si è dato e come avete scelto gli autori da inserire in questa antologia. Il lavoro che abbiamo fatto con Chiara Peaggio è stato meraviglioso perché noi l'abbiamo cominciato pre-pandemia, poi l'abbiamo continuato durante la pandemia. Il nostro obiettivo era dare uno strumento di conoscenza parziale di un continente enorme e potevamo fare un manuale Cencelli con 54 racconti, invece abbiamo scelto di fare soltanto una trasvolata veloce sul continente, scegliendo soprattutto testi dall'Africa subsahariana e dal Corno d'Africa, anche se ci sono delle puntatine nel Madagascar, eccetera. Non è un testo esaustivo, naturalmente, è un'antologia che sembra quasi una rivista, dove abbiamo cercato di mettere la modernità e la gioventù di questo continente, che in Italia viene descritto sempre tutto uguale e premoderno o ancestrale. Non è tanto che combatte gli stereotipi dicendo questo è uno stereotipo, non usatelo, non è quello l'obiettivo del libro, ma far vedere la differenza tra paese e paese. Sono tutti testi letterari di livello anche molto alto, di livello anche di intreccio molto interessante, per esempio c'è un racconto su un piano barra ad Addis Abeba, e poi è una sorta di guida attraverso città che uno magari ha sentito nominare, però non ha mai visto, e abbiamo scelto degli autori sia famosi, come Cimamanda Ingosia dice, e sia meno famosi, meno conosciuti in Europa e nella fattisface in Italia. Per trovare questi racconti ci siamo basate soprattutto su delle riviste, alcune occidentali, quindi famose, come il Granta, e altre invece locali, per esempio Quani, che è una rivista del Kenya. Poi una cosa importante da dire è che questo volume è dedicato a Binyavang Gawanaena, che io conoscevo personalmente, ero uno scrittore del Kenya, della comunità LGBTQ, aveva fatto Coming Out, è stato considerato in un momento in cui è difficile, in alcuni paesi è difficile farlo, è stato considerato uno dei più influenti persone dal Times, ed era, quello che mi ricordo io, era un personaggio pazzesco, multicolore, vivace, voleva fare sempre mille progetti, e qui abbiamo pubblicato il suo Come scrivere dell'Africa, che è un testo molto famoso, che l'abbiamo riproposto in una nuova traduzione, e questo ci tengo a dirlo, è un po' più letteraria, e devo dire che lui appunto, questo libro, questo racconto era nato dal fatto che Grant gli aveva detto di scrivere dell'Africa, e aveva fatto tutto un numero molto stereotipato, e lui ha scritto invece proprio quell'articolo dicendo no, l'Africa è tutta un'altra cosa, e Grant ha smontato il numero per farne uno nuovo, un po' più legato a quello che diceva Binyavanga, e noi effettivamente quello abbiamo voluto fare, questo non è un testo esaustivo, ma un testo speriamo che apra gli occhi, e che permette ai lettori e alle lettrici di essere curiosi, quindi magari andassi poi a cercare Cino Acebe, i classici, Can Sarouiva, ma anche le nuove voci, sia di questa antologia, sia fuori da questa antologia. Io devo dirti che tra gli autori che vi avete scelto, ce n'è una che io amo profondamente, infatti sono stata felice di trovarla, ed è Ken Bugul, la senegalese Ken Bugul, che è una donna meravigliosa, una scrittrice meravigliosa, e spero che molti leggano il lavoro che avete fatto tu e Chiara, e possano goderne, possano trarre ispirazione per andare avanti, poi in altri tipi di ricerche. Allora, questo è Africana, ve lo faccio rivedere, Africana, Feltrinelli, Chiara Piaggio e Giabascego. Giabascego, tra l'altro, noi di Africa l'abbiamo invitata a tenere un seminario, che si è previsto per novembre, per il, ora vediamo se indovino la data o se la sbaglio, come sempre, perché ho la memoria di un pesciolino, 3-14 novembre del 2021, i Giabascego sarà a Milano, e parlerà di uno degli argomenti che è più congeniale, il titolo del seminario è l'Africa in Italia, ieri e oggi. I Giabascego è una studiosa del colonialismo e della trasformazione che l'Europa e l'Italia stanno avendo in questi anni, e racconterà appunto, parlerà di queste cose dalla sua prospettiva, insieme agli iscritti al seminario, che spero che saranno numerosi, e sicuramente saranno, io immagino che usciranno molto contenti da questi due giorni. Detto questo, io ti ringrazio, mi piacerebbe consigliare molti altri libri tuoi, però l'abbiamo fatto anche altre volte, avremo modo magari di riparlarne, ecco, non era previsto, però se qualcuno potesse un po' di tempo, potesse riprigliare in mano la linea del colore che era uscita l'anno scorso di Giabascego, anche quello sarebbe un tempo ben impiegato, aiutami a ricordare la casa editrice, che non è Feltrinelli, in questo caso, è Bonpiani, è Bonpiani, ed è un romanzo con cui Giabba ha fatto un grande salto, è sempre stata lei una brava scrittrice, un'attenta osservatrice, perché non studiosa, e in questo libro, la linea del colore, ha dimostrato di essere ancora maturata ulteriormente, non dico nulla sul libro, perché è anche una brama abbastanza complessa, ma sarebbe un'ottima lettura estiva, per chi non l'avesse già letta. Grazie Giabba. Grazie. Buon'estate. Buon'estate, al mare spero. Buon'estate, speriamo che ci sia presto l'occasione di parlare dal vivo, su Zoom, di tutte queste cose. Ciao.